Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo a Gangnam. Stiamo andando verso il palazzo della Bidit, ma prima mangeremo. Andremo al Yojong Sittang, che è questo ristorante dove andavano sempre i pantani durante il periodo del deputo e pieno di copero in generale, da i posti dove mangiavano, quindi ci si può sedere dove mangiavano loro, fino a varie foto sui muri, autografi, insomma, fuori tutto. Oggi è una giornata piena, faremo tante cose. Il ristorante è un po' non difficile, insomma, bisogna solo tenere gli occhi aperti, ma eccoci qui. Allora, abbiamo appena finito di mangiare. Sara si è seduta dalla sedia e apparteneva Hong Kong. Adesso ciò è stato molto buono il piatto, ormai ci hanno tolto tutto, ma la cosa importantissima è che ci hanno dato la proprietaria. Penso sia la proprietaria. C'è stato un cup holder e una photocard. E' proprio bellissimo. E' stare in questo, diciamo, clima. Siamo appena scesi dall'autobus e siamo arrivati alla K-Star Road. C'è anche la fermata della metro, se volete prendere la metro, insomma, in base al vostro percorso. Comunque, nel frattempo, guardate che bel negozio questo. Ah, credo. Beh, dopo la mia bellissima partita. Proseguiamo. Allora, bene, siamo arrivati al... non so come si chiama... il sacchiotto. La statua delle Girls' Generation. E' proprio di fronte. Quindi, che dire, amici. Siamo arrivati. È quella dei Pan Pan. Proprio adesso è passato l'autobus. Che sta di fronte a un negozio molto fancy. di caffie. Quindi, quando... quando verrete, tenetelo a mente, insomma. Nel frattempo, da quelle parti prosegue la pista Road, che se non ci fosse il... Grazie signore. Il taxi. Sì. 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 Allora, siamo alla House of BTS, my dude. Stiamo facendo la fila per entrare. Nel frattempo ci hanno dato una fila con delle cosette dentro. e poi ci hanno dato ovviamente per scegliere cosa prendere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.